Mentre Renato, Nadia e i novelli sposi Franco e Angela si dedicheranno a una divertente gita in kayak, Denis porrà Giulia dinanzi ad una difficile scelta. Diego, dinascosto dal fratello Patrizio, avrà un confronto faccia-faccia con Rossella, cosa deciderà la ragazza?. Quali saranno le conseguenze della chiacchierata? Sempre più in crisi finanziaria e in contrasto con le remore espresse dalla moglie, Filippo si informa su come ottenere parte dell'eredità di Gigi Del Colle. .